Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link in infobox. Detto questo, diamoci dentro col video. Prima di iniziare, come al solito, quest'anno non se ne esce o comunque quando se ne esce si rientra immediatamente o mal di gola o un po' di raffreddore. Perdonate la mia voce che non è al top. Nell'universo del true crime, apparenze e realtà spesso sono due mondi davvero distanti, anche se pochi o nessuno dall'esterno riescono a percepirlo in tempo. È il 2011 e ci troviamo in Inghilterra, nella contea del Lincolnshire, più precisamente a Burgle Marsh, un piccolo paese di 2.016 abitanti, un luogo pittoresco situato a 4 miglia dalla località costiera di Ischia Gness, a 40 minuti da Boston. Burgle Marsh è un posto pacifico in cui vivere, dove tutti gli abitanti si conoscono, vanno d'accordo e sono amichevoli tra loro. In questo villaggio la comunità è tranquilla e si registra un basso tasso di criminalità. Uno dei residenti si chiama David Twig, ha 46 anni e ha sempre vissuto nel Lincolnshire. Non sono riportate molte informazioni online sul passato di David e sulla sua educazione, ma si sa con certezza che è figlio unico e che i suoi genitori si chiamano Roy e Janice Twig. Loro sono davvero amorevoli con lui e David infatti è molto legato a entrambi. Tutti quelli che conoscono David lo descrivono come una persona brava e gentile, sulla quale non si può dire una sola parola dispregiativa. David è sempre felice di poter aiutare il prossimo, dunque è un membro rispettato della sua comunità. È un uomo sposato, sua moglie si chiama Julie Dixon e ha 43 anni, i due stanno insieme dal 1996, ovvero da 15 anni. Julie prima di incontrare David era già stata sposata, ma quel matrimonio non era andato come previsto, quindi aveva divorziato dal primo marito. Julie viene descritta come una persona piuttosto estroversa, mentre David è un tipo tranquillo e riservato. In ogni caso i genitori di David adorano sua moglie Julie, la trattano come se anche lei fosse figlia loro. La coppia vive in un bungalow situato in una zona piuttosto isolata di Berkeley Marsh, in una posizione abbastanza fuori mano, un po' distante dalle strade principali. Proprio accanto al bungalow si erige l'edificio dove lavorano entrambi, sia David che Julie, che infatti gestiscono un'attività insieme. David è un fanegname, realizza porti legno e finestre, ed è abile nel suo lavoro. Julie si occupa dell'aspetto commerciale e amministrativo dell'azienda, dunque controlla le finanze, prenota gli appuntamenti con i clienti, risponde al telefono. David svolge la parte pratica e operativa del suo mestiere in un laboratorio, comprendente un magazzino sul retro della proprietà. Julie lavora in un piccolo ufficio collocato sempre vicino al laboratorio. A detta di tutti la coppia collabora in modo affiatato. Insieme Julie e David sembrano davvero felici e separabili, sia nel lavoro che nella vita privata. Ma poi, all'improvviso, la sera di domenica 13 marzo 2011, un operatore del 999 riceve una telefonata da parte di Julie Dixon. La donna, travolta dal panico, spiega freneticamente che lei e suo marito, mentre erano nel loro laboratorio, sono stati aggrediti da due persone che poi hanno anche incendiato l'edificio. Julie è riuscita a fuggire dai due assalitori e dalle fiamme, ma David è ancora intrappolato all'interno del laboratorio. I vigili del fuoco arrivano immediatamente a Burgle Marsh, individuano Julie nel cortile di casa sua e lei li conduce di corsa nella parte dell'edificio dove David è bloccato. Tuttavia, i vigili del fuoco si rendono conto che la maggior parte dell'incendio si è già spento e che non si è propagato in altre stanze, infatti è rimasto concentrato nella zona del laboratorio e del magazzino. Le fiamme sono quasi estinte, ma c'è ancora la cappa del fumo denso e nero. La priorità dei vigili del fuoco è salvare David Twig, ma quando tentano di aprire la porta del magazzino sul retro, scoprono che è chiusa a chiave. Siccome temono che David sia intrappolato proprio lì, rompono la serratura e quando aprono la porta lo vedono cadere a terra. L'uomo era in ginocchio, appoggiato alla porta, per questo quando è stata aperta è caduto in avanti, già privo di sensi. In base a quanto riporta un articolo, David si trovava in quella posizione perché stava pregando. I paramedici giunti sul posto cercano di rianimarlo, di salvargli la vita all'esterno dell'edificio dove c'è più spazio e aria incontaminata. Mentre David viene trasportato fuori, sua moglie Julie piange angosciata. Per mezz'ora la squadra di dottori cerca di salvare David, ma purtroppo non ci riesce perché lui ha inalato troppo fumo. David viene dichiarato morto. Intanto Julie è stata portata all'ospedale, anche lei ha inalato del fumo, ma fortunatamente non riporta ferite gravi. Mentre i medici l'assistono, viene informata della morte di suo marito. Julie è sconvolta, ha il cuore spezzato, ha appena perso l'uomo che ama la persona con cui è sposata da 15 anni. La situazione è davvero dolorosa per lei, ma la polizia è ansiosa di parlarle perché vuole sapere cos'è successo prima che David morisse. Quindi dopo che Julie viene dimessa dall'ospedale, gli agenti le chiedono di raccontare tutto ciò che riesce a ricordare. Julie spiega che la sera del 13 marzo 2011 lei e David si trovavano nel loro laboratorio, quando all'improvviso due uomini avevano fatto irruzione e li avevano aggrediti. Avevano afferrato David, lo avevano trascinato nel magazzino e lo avevano chiuso lì dentro. Solo a questo punto avevano appiccato l'incendio appena fuori dalla porta del magazzino. Avevano provato a trascinare con loro anche Julie, ma per fortuna lei era riuscita a divincolarsi e a scappare dall'edificio. Aveva afferrato il telefono per chiamare il 999, ma poi, vedendo i due aggressori che uscivano dal retro, aveva deciso di tornare dentro per scoprire come stava David. Tuttavia, quando aveva riaperto la porta d'entrata, si era scontrata con una grossa quantità di fumo. Sapeva che era troppo pericoloso per lei andare oltre e le conveniva attendere fuori l'arrivo dei vigili del fuoco. La polizia chiede a Julie se può descrivere i due aggressori che hanno appiccato il fuoco. Che aspetto avevano? Julie spiega che purtroppo indossavano delle felpe con il cappuccio sollevato e delle maschere, quindi i loro volti erano coperti. Era riuscita soltanto a vedere i loro occhi, dunque non può aiutare molto la polizia. È certa che erano due uomini dalla carnagione bianca. La polizia chiaramente si attiva per rintracciare al più presto questi pericolosi assassini, dando inizio alle indagini per l'omicidio di David Twig. A questo scopo, gli agenti chiedono a Julie se può consegnare i vestiti che indossava al momento dell'aggressione, visto che i due uomini l'avevano afferrata. Sperano di riuscire a individuare una traccia dei loro DNA attraverso i suoi abiti. La mattina dopo l'omicidio, la squadra investigativa dei vigili del fuoco torna sulla scena del crimine per determinare esattamente come è stato scatenato l'incendio. Giunge presto la conclusione che il fuoco è stato appiccato utilizzando della benzina che i due uomini hanno versato sul pavimento all'esterno del laboratorio e poi hanno lanciato un fiammifero e intrappolato David nel magazzino. Era ancora vigile quando è scoppiato l'incendio, sarebbe potuto bruciare vivo lì dentro, ma in realtà ha solo respirato i fumi tossici, come viene poi confermato a seguito dell'autopsia sul cadavere. David è morto perché ha inalato il fumo. La scientifica viene inviata alla proprietà per raccogliere delle eventuali prove e in particolare esamina attentamente le aree in cui secondo Giuli è avvenuta l'aggressione. A tal proposito la polizia è preoccupata, teme che il fuoco abbia distrutto ogni traccia del DNA degli assassini e spera quantomeno che vengano rilevate le impronte digitali. Oltre a cercare delle prove all'interno, la polizia perquisisce pure l'esterno della struttura e le zone circostanti, nel tentativo di trovare qualcosa che, magari, i due assassini avevano lasciato cadere mentre scappavano dalla scena del crimine, uscendo dal retro. Nello specifico la polizia cerca la chiave usata per chiudere David all'interno del magazzino, che non è ancora stata individuata sul luogo del delitto. Probabilmente i due intrusi l'hanno portata con sé e l'hanno gettata da qualche parte. Infine, la polizia rinviene un mazzo di chiavi sul terreno fangoso di proprietà dei vicini dei Twig, proprio nella direzione in cui Julie ha detto che i due assassini erano scappati. In effetti, una delle chiavi apre la serratura della porta della stanza in cui David era stato chiuso. Per tentare di ottenere qualche informazione in più, la polizia lancia un appello al pubblico, mentre l'ente di beneficenza Crime Stopper offre una ricompensa di 3000 sterline come incentivo. Purtroppo, l'area dove è avvenuto il delitto è molto tranquilla, se non remota. Come detto, la casa e il luogo di lavoro di Julie e David sono fuori mano, distanti dalle strade principali, ma talvolta lì ci sono dei passanti che portano a spasso i loro cani. Magari un dog sitter ha notato gli aggressori mentre scappavano dall'edificio. Anche la moglie di David, Julie, rilascia una dichiarazione al pubblico in cui dice «Sono così intorpidita dal dolore. Il mio cuore è spezzato. Non ho solo perso il mio compagno da 15 anni. Ho perso l'amore della mia vita, il mio miglior amico, la mia anima gevella». In seguito all'appello, la polizia riceve numerosi suggerimenti da parte degli spettatori e li esamina uno per uno. Questo omicidio ha colpito nel profondo gli abitanti del piccolo paese, una zona tranquilla con un basso tasso di criminalità dove questo genere di crimini non si erano mai verificati. I residenti sono davvero scossi, anzi terrorizzati, ma anche molto tristi. David, come detto, era abbastanza conosciuto in tutta la comunità dato che aveva sempre vissuto lì. Inoltre faceva il falegname, quindi aveva molti clienti del posto. Durante le mie ricerche ho letto più volte che tutti lo consideravano una persona adorabile, un vero gentiluomo. Infatti non riescono a capire perché qualcuno avessi voluto far del male proprio a lui. A questa domanda deve però rispondere la polizia, che è parecchio in difficoltà. Non riesce a determinare né il colpevole né tantomeno un muovente. All'inizio pensano che possa trattarsi di una rapina finita male perché David aveva molti macchinari e attrezzature costosi nel suo laboratorio, quindi forse i due aggressori volevano appropriarsene per rivenderli. Ma in realtà non è stato rubato nulla. Forse i ladri avevano cambiato idea? E perché? È più ragionevole pensare che questa teoria sulla rapina sia errata. È stato chiaramente un attacco mirato contro i coniugi o contro David. Ma allora chi aveva interesse a porre fine alla sua vita? La polizia indaga più a fondo nel vissuto della vittima e nel suo passato, ma non riesce a identificare nessuno che avesse dei problemi con lui. I detective allora parlano con le persone che abitano nelle vicinanze, nella speranza che possano fornire qualche informazione utile che è sfuggita alla polizia. Il proprietario della stazione di servizio locale rivela che Julie lo aveva incaricato di ricevere presso la sua attività la posta sia personale che aziendale indirizzata alla coppia che poi lei andava a ritirare ogni volta. Per lui non c'erano problemi e questo accordo andava avanti da un po' di tempo. La polizia si interroga sul motivo di questa scelta. Forse i coniugi Twig non volevano che la gente conoscesse il loro indirizzo? E in tal caso, perché? C'era qualcuno in particolare a cui volevano nasconderlo? La polizia quindi prosegue le indagini controllando i conti correnti e le finanze di David e Julie, ipotizzando che il movente di questo omicidio sia proprio il denaro. La coppia aveva una falegnameria conosciuta nella zona. Forse quei due uomini volevano derubare David e Julie? In ogni caso, se a un primo sguardo risulta che l'attività di falegnameria dei Twig andasse bene, indagando più a fondo emerge che non era fatto così. David e Julie avevano contratto debiti per un valore di oltre 40.000 sterline. Inoltre la coppia aveva precedentemente richiesto un prestito di 400.000 sterline. Immagino che ne avesse bisogno per finanziare la propria attività, perché come detto le attrezzature di cui David aveva bisogno sono molto costose. In ogni caso, i debiti erano così sostanziosi che l'attività era andata in mancarotta e poco prima dell'omicidio era stato emesso un mandato di arresto per David proprio perché era insolvente. Come si evince, la situazione per lui era molto difficile e alla polizia sorprende che Julie, con gli agenti che l'hanno interrogata, non ne abbia parlato affatto. I detective sospettano che David fosse all'oscuro della gravità della situazione, visto che era Julie a occuparsi dei conti e delle finanze. E questo spiegherebbe anche perché lei aveva reindirizzato la posta alla stazione di servizio locale. Infatti ricevevano un sacco di lettere relative ai loro debiti. Julie quindi aveva nascosto al marito questa preoccupante condizione finanziaria. Dopo queste scoperte, i detective nutrono qualche sospetto nei confronti di Julie. Il suo silenzio su delle questioni economiche così delicate è strano e di certo non ha aiutato lo svolgimento delle indagini. Forse lei sa qualcosa di più su questo omicidio, più di quanto ha lasciato intendere, quindi la polizia riesamina tutte le prove raccolte per capire se la versione dei fatti di Julie presenti delle incongruenze. Come sappiamo, viene stabilito che l'incendio era stato appiccato da qualcuno che aveva versato della benzina sul pavimento, appena fuori dalla porta del magazzino, poi aveva intrappolato David lì dentro e lanciato un fiammifero acceso sul combustibile. In realtà le fonti non indicano se la tannica di benzina sia mai stata ritrovata, ma il tappo del recipiente è stato rinvenuto sopra un barile all'interno del laboratorio. Questo vuol dire che qualcuno l'aveva posizionato proprio lì ed è insolito considerando la fretta e la frenesia del momento. È più logico immaginare che il tappo della tannica di benzina sia stato gettato a terra e non che sia stato adagiato sulla sommità del barile. Inoltre l'analisi forense condotta sui vestiti che Julie indossava la sera dell'omicidio rileva delle tracce di benzina. Anche qui qualcosa non quadra. Julie aveva detto di essere scappata e dopo poco di aver visto i due uomini che si allontanavano dalla scena del crimine. Così aveva deciso di tornare nell'edificio per controllare se David stesse bene ma appena aveva aperto la porta si era trovata davanti a un muro di fumo quindi non era andata oltre ed era tornata fuori. Questo vuol dire che semplicemente aprendo la porta e mettendo un piede nell'edificio non avrebbe potuto sporcarsi i vestiti con il combustibile. Il fuoco mentre dibampa non spruzza di certo benzina. La presenza di tracce del liquido infiammabile sui suoi vestiti suggerisce che Julie avesse in mano la tannica di benzina e che accidentalmente se ne fosse rovesciata un po' addosso. Ma perché il recipiente era finito nelle mani di Julie? Inoltre le lievi ferite riportate da Julie non sono coerenti con la sua versione dei fatti. Lei afferma di essersele procurate quando aveva aperto la porta e si era scontrata con il muro di fumo ma secondo gli esperti non è plausibile. Le sue ferite indicherebbero che era rimasta intrappolata in una nuvola di vapore subito dopo l'accensione del fuoco. Questo significa che si trovava molto vicino al punto in cui era stato appiccato l'incendio. Ricapitolando sono molteplici le prove che indicano alla polizia che Julie non ha detto tutta la verità sugli eventi di quella notte. Il tappo della tannica di benzina posizionato sul barile all'interno del laboratorio, le macchie di benzina presenti sui suoi vestiti, le sue ferite compatibili con gli effetti di una nuvola di vapore. Non molto tempo dopo tra l'altro la polizia trova ulteriori indizi che suggeriscono che Julie sta mentendo. Gli investigatori esaminano tutti i filmati delle telecamere a circuito chiuso installate nella zona, includendo quello ricavato dalla stazione di servizio presso cui Julie aveva reindirizzato la posta. Il video mostra proprio Julie che acquista una tannica di benzina solo un paio di giorni prima dell'omicidio di David. Quindi la polizia è in possesso di una notevole quantità di prove contro Julie che smentiscono la sua versione dei fatti e secondo la quale due uomini si erano introdotti nell'edificio per aggredirli e appiccare un incendio. In realtà era stata lei a dare fuoco agli ambienti e a uccidere suo marito. Poco meno di tre mesi dopo il delitto, il 6 giugno del 2011, Julie viene arrestata con l'accusa di omicidio. Pare che la donna se lo aspettasse, infatti appare molto calma mentre viene portata alla stazione di polizia per essere sottoposta a un ulteriore interrogatorio. In questa circostanza Julie lascia i detective senza parole perché cambia completamente versione dei fatti. Consegna una dichiarazione preparata insieme al suo avvocato in cui afferma che la morte di David è stato il risultato di un patto suicida. Julie sostiene che lei e suo marito erano stanchi di lottare contro un'importante depressione che le affliggeva da tempo, proprio a causa della loro situazione finanziaria. Non riuscivano a intravedere una via d'uscita e avevano deciso di farla finita il 13 marzo 2011. Avevano concordato di appiccare un incendio e di morire insieme nella loro proprietà, ma non tutto era andato secondo i piani. Julie confessa di essere stata lei ad appiccare il fuoco, quindi aveva versato la benzina sul pavimento e lanciato il fiammifero. Però all'ultimo momento aveva cambiato idea, si era spaventata ed era corsa fuori dall'edificio. David invece era determinato, voleva davvero togliersi la vita, quindi non si era mosso da lì ed era andato incontro alla morte. Julie spiega che aveva dovuto inventare la storia dei due intrusi, soprattutto per proteggere i genitori di David, i quali non dovevano sapere che il figlio aveva optato per farla finita. Ovviamente i detective non credono alla nuova versione di Julie, perché David era chiuso nel magazzino e l'incendio era scoppiato appena fuori da quella porta. Perché David avrebbe dovuto chiedere a Julie di rinchiuderlo, visto che era davvero determinato a porre fine alla sua vita? Insomma, questa storia non ha alcun senso. Julie, inoltre, ha affermato di aver cambiato idea soltanto all'ultimo minuto, perché aveva capito che non voleva morire quando era già scoppiato l'incendio. Questo non è possibile, in quanto lei chiaramente non si trovava nel magazzino insieme a David. Aveva piccato il fuoco dall'altra parte della porta e l'aveva chiusa chiave. Chiave che misteriosamente, insieme al resto del mazzo, era finita nel giardino dei suoi vicini di casa. Le prove raccolte dalla polizia non sono coerenti con la storia di Julie, così gli investigatori insistono, continuano a farle delle domande sulla nuova versione degli eventi. Julie però, a quanto pare, non vuole approfondire il discorso ulteriormente. Non spiega perché David fosse rinchiuso nel magazzino, ma risponde semplicemente no comment. Gli investigatori sono coinvinti dell'inesistenza del patto suicida, non c'è mai stato, e vogliono dimostrare che Julie sta continuando a mentire. Conducono nuove indagini su David e sulla sua vita, ma niente suggerisce che lui avesse delle intenzioni suicide, che quella sera volesse morire. Nell'ambito di questa linea di indagini, la polizia perquisisce anche il bungalow dove vivevano David e Julie, non solo il complesso commerciale. Sequestrano i loro laptop e i computer, e quando esaminano la cronologia delle ricerche effettuate su internet, scoprono che un utente aveva digitato su Google frasi tipo, come avvelenare qualcuno, o come mascherare delle compresse nel cibo? O ancora, cosa si può mettere nel cibo che non risulti nell'autopsia? Siccome David è stato assassinato ed è lampante, queste ricerche sono opera di Julie, come dimostrano anche le indagini sull'identità dell'utente che aveva eseguito l'accesso per effettuarle. Questo vuol dire che il delitto era stato premeditato. Le prove contro Julie ormai sono davvero tante. Infatti la polizia decide di arrestarla e di accusarla dell'omicidio di suo marito David. Il processo a carico di Julie inizia nel dicembre del 2011. Lei decide di dichiararsi non colpevole e cambia nuovamente la sua versione dei fatti. Come sappiamo, Julie inizialmente aveva riferito che due uomini avevano fatto irruzione nel laboratorio per applicare l'incendio e uccidere David, mentre lei era miracolosamente riuscita a scappare. Poi aveva cambiato versione raccontando che lei e David avevano stretto un patto suicida. Volevano entrambi morire, ma Julie all'ultimo minuto aveva cambiato idea. Ora, durante il processo Julie fornisce ancora un'altra versione dei fatti. Afferma che lei non voleva morire, ma David sì, quindi aveva accettato di aiutarlo. Adesso racconta che era stato David a dar fuoco al laboratorio dopo aver versato la benzina sul pavimento. Lei era solo una spettatrice. Non era stata coinvolta attivamente nella missione suicida, ma riteneva che rimanere lì dentro fosse troppo pericoloso. Per questo, alla fine, era corsa fuori dall'edificio. Ora tocca all'accusa dimostrare alla giuria che Julie, al contrario di quanto dice, ha compiuto un omicidio a sangue freddo. I rappresentanti dell'accusa presentano tutte le prove che la polizia ha raccolto durante le indagini. Espongono ai giudici la loro ricostruzione degli eventi di quella sera e il movente per il quale Julie ha commesso l'omicidio. La cronologia delle ricerche su Google indica che Julie aveva pianificato di uccidere suo marito già da un po', principalmente a causa dei loro problemi finanziari. Risulta che David fosse all'oscuro di tutti i loro debiti. Non solo Julie gestiva autonomamente tutte le finanze dell'attività, ma gli aveva anche impedito di visionare la posta, visto che questa ormai veniva recapitata alla stazione di servizio. Per l'accusa David non aveva idea che la sua azienda fosse praticamente in bancarotta. Julie aveva tenuto nascosta la preoccupante crisi aziendale per qualche motivo. Continuava quindi a ignorare il problema e a inventare scuse. Quando i funzionari telefonavano chiedendo di parlare con David riguardo ai suoi obblighi finanziari, Julie mentiva dicendo che era malato oppure che stava lavorando all'estero. Con David fingeva che andasse tutto per il meglio, mentre i debiti non facevano che aumentare, rendendo la situazione molto, ma molto complicata. Julie era stata informata che gli ufficiali giudiziari sarebbero andati a valutare i suoi beni e che David sarebbe stato arrestato. Allora si era fatta prendere dal panico. Ormai erano anni che nascondeva la verità a suo marito e adesso, se non avesse fatto qualcosa, David avrebbe scoperto tutto. Così invece di essere onesto e raccontargli la verità, aveva deciso di ucciderlo. Un altro movente che viene suggerito è banale quanto terribile. Julie non voleva più stare con David. Aveva detto ad alcuni amici che la vita matrimoniale non la rendeva felice e che aveva intenzione di lasciare il marito. Parafrasando, intendeva toglierlo di mezzo una volta per tutte. Qualche giorno prima del delitto aveva acquistato una tannica di benzina alla stazione di servizio locale e, la sera del 13 marzo 2011, aveva stabilito di mettere in atto il suo piano mortale. Con qualche scusa, Julie aveva attirato David nel bagazzino del laboratorio. Una volta che lui era entrato, lei aveva chiuso a chiave la porta alle sue spalle, intrappolandolo. Poi aveva afferrato la tannica di benzina, aveva rimosso il tappo e l'aveva adagiato su un barile di vicino, dopodiché aveva versato il liquido infiammabile sul pavimento davanti alla porta del magazzino. Aveva acceso un fiammifero e l'aveva gettato sulla benzina, facendo divampare le fiamme e delle nuvole di vapore che l'avevano ferita. Onestamente mi angoscia e mi rattrista pensare a quanto fosse spaventato il povero David. Deve essere stato terrificante per lui rendersi conto che era stato bloccato in quella stanza e condannato a morte da sua moglie, la donna che amava da più di 15 anni. Dopo aver appiccato il fuoco, Julie era corsa fuori dall'edificio e aveva buttato le chiavi sul terreno dei vicini di casa. Poi si crede che fosse tornata nel complesso ma non nella parte del magazzino incendiato né nel locale commerciale della proprietà. Era entrata nella sua casa adiacente all'azienda e si era diretta in bagno. Infatti le perquisizioni eseguite e gli esami forensi avevano riscontrato che nel lavandino c'erano dei capelli bruciacchiati. I test avevano evidenziato che appartenevano a Julie. Probabilmente voleva controllare le proprie ferite perché non si aspettava di farsi male. Dopo aver fatto trascorrere un po' di tempo per assicurarsi che David fosse davvero morto, Julie aveva chiamato i servizi di emergenza sanitaria. Riascoltando la telefonata di Julie al 999, gli investigatori avevano considerato sospetta la sua priorità di ripercorrere gli eventi successivi invece di spiegare urgentemente all'operatore che suo marito era intrappolato in un ambiente in fiamme. In pratica aveva esordito con eravamo nel nostro laboratorio a fare alcune scelte quando all'improvviso queste persone ci hanno sorpreso da dietro, ci hanno aggrediti e hanno appiccato un incendio. Ovviamente la motivazione per cui la coppia si trovava nel laboratorio in quel momento non era un dettaglio rilevante per l'operatore del 999. Gli operatori dei servizi di emergenza hanno bisogno di sapere subito chi è in pericolo e dove si trova in modo da poter inviare immediatamente i paramedici sul posto. Invece sembra che a Julie premesse innanzitutto di raccontare la sua falsa storia affinché apparisse realistica. Poi quando la squadra dei vigili del fuoco e dei paramedici erano intervenuti in soccorso di David, Julie aveva iniziato a recitare la parte della moglie addolorata con il cuore spezzato. Era stata abbastanza brava, infatti all'inizio nessuno sospettava di lei, nemmeno gli investigatori, anzi erano dispiaciuti per Julie. Non avevano idea che in realtà il colpevole cercato in vano per circa tre mesi fosse proprio lei. Dopodiché quando la prima versione dei fatti di Julie aveva evidenziato delle crepe, risultando incoerente rispetto alle prove raccolte dalla polizia, lei aveva ribaltato la narrazione degli eventi, inventando la storia del patto suicida. Infine durante il processo a suo carico Julie ha intuito che neanche la sua seconda storia stava in piedi, allora ne ha inventata un'altra. Al terzo giorno di udienza infatti ha deciso di dichiararsi colpevole e ha ammesso di aver compiuto un omicidio. Di certo ha preso questa decisione conscia di tutte le prove che l'accusa ha in suo possesso e che indicano l'evidenza di un omicidio. Julie ha capito che la possibilità di essere dichiarata innocente è più che remota, quindi si è dichiarata colpevole con la sferanza di ottenere una sentenza meno dura. Il verdetto viene annunciato. Julie Dixon, di 43 anni, è condannata a un minimo di 23 anni di carcere, quindi probabilmente tra il 2034 e il 2035 verrà presa in considerazione la libertà condizionale. Ritengo che questo caso sia davvero angosciante. Come detto, se penso agli ultimi stanti di vita di David, chiuso in quella stanza circondata dalle fiamme o ai brividi. Di certo era terrorizzato e confuso. Sua moglie lo aveva attirato in una trappola mortale e lui non sapeva neanche il motivo. Era rimasto al buio mentre il fumo penetrava nel magazzino e il fuoco ardeva appena fuori dalla porta. I genitori della vittima, Roy e Janice Twig, sono tanto devastati dalla perdita del figlio. Hanno il cuore in frantumi anche perché amavano sinceramente l'assassina del loro David, una persona di cui mai avrebbero sospettato. La trattavano come se anche lei fosse figlia loro, l'avevano supportata all'inizio dell'indagine, avevano condiviso il loro dolore con lei. Soltanto dopo mesi hanno scoperto che era stata Julie l'artefice di tutto quell'orrore. Infatti, a seguito della sua condanna, Roy e Janice rilasciano una dichiarazione in cui dicono, abbiamo perso il nostro unico figlio, David, per mano di qualcuno che abbiamo amato e trattato come una figlia. David era un uomo gentile e rispettabile, un gran lavoratore, era molto orgoglioso del suo lavoro e del servizio che forniva alle persone. Non vogliamo esprimere i nostri pensieri su Julie Dixon, che ha finalmente ammesso di aver ucciso il nostro meraviglioso figlio, ma dobbiamo dire che siamo felici di vedere finalmente che giustizia è stata fatta e la lasceremo con i suoi pensieri. Questo ci porta alla fine di questo caso. Vi ho già spiegato che per me questo caso è davvero angosciante. Mi immagino l'inconsapevolezza di David e nello immagino davvero terrorizzato. Mi dispiace davvero tanto. È angosciante, secondo me, visualizzare che cosa è successo a David, immaginarselo proprio nella mente. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate di questo caso. Lo conoscevate oppure questa è stata la prima volta in cui l'avete sentito? Fatemi sapere tutte le vostre opinioni, i vostri pareri, i vostri pensieri qui sotto nei commenti, come al solito. Io nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!